E' proprio il numero uno di replica RL. Al comando delle operazioni c'è Robini A.S., Rita Disgrèi a tra i due, anche Rada Di Bianca, quindi Riffa OM che trova il varco per sistemarsi dalla seconda fila in seconda posizione. Quindi Robini A.S. al comando, Riffa OM, Rita Disgrèi, poi Rada Di Bianca, ancora il numero cinque di Rada Di Bianca in terza, poi c'è anche il numero otto, quindi Riffa OM. In avanti è Robini A.S., poi in quarta posizione Rina Disgrèi, dalle retrovie arriva Ombroso. Robini A.S. a fare l'andatura, nei confronti di Riffa OM, poi c'è sempre Rada Di Bianca in terza posizione, quindi Riva Ombrosa e poi ancora Rino Disgrèi, Rita Disgrèi, Rosalia Cox, segue poi Ryan G.V. Robini A.S. a fare l'andatura nei confronti di Riffa OM, Cavalli che affrontano la dirittura opposta alle tribune, dove Robini A.S. a fare l'andatura sul Riffa OM, Rada Di Bianca ancora arriva a Ombrosa, ed è Robini A.S. che accelera dal Riffa OM, poi Rada Di Bianca che ora si prepara per venire via, quindi Robini A.S. e Riffa OM sempre dietro, ancora Rada Di Bianca, Robini A.S. che prova a scappare via da Riffa OM, poi Rada Di Bianca, Robini A.S. che accelera, quindi Riffa OM sempre dietro, ancora Rada Di Bianca, Cavalli che stanno per completare l'ultima piegata, con Riffa OM che ora prova a venire via, su Robini A.S. che accelera, ma c'è Riffa OM, ancora Rada Di Bianca, Cavalli che entra in retta d'arrivo, con Robini A.S. che scappa via da Riffa OM, poi Rada Di Bianca, Cavalli che entrano in retta d'arrivo con il numero 8 di Riffa OM che viene a vincere facilmente nei confronti di Robini A.S. al terzo posto, il numero 5 di Rada Di Bianca, 8-2-5, l'arrivo ufficioso di questa corsa, vittoria per Riffa OM e Mimmo Zanca che vanno a segno. Grazie a tutti.